allora benvenuti siccome me l'avete chiesto in tanti e io adesso ho solo il telefono per farlo mi spiego come fa la trasmissione scusate se è così poi lo rifarò un attimo meglio allora voi quando siete nel menu schiacciate il tasto share andate su trasmetti gioco che adesso chiaramente non c'è perché non c'è nessun gioco dentro quindi adesso esempio mettiamo un gioco ok avete visto schiacciate tasto share trasmetti gioco e poi scegliete la piattaforma che volete twitch youtube o dailymotion io uso sempre youtube come voi sapete io faccio youtube e troverete tutte le impostazioni qua voi fate inizio trasmissione e qua avete tutte le possibilità per l'audio non audio quello che più vi interessa tutto qua alla fine poi fate x trasmetti gioco inizio trasmissione ci mette un attimo e siete in onda vi ripeto scusate la qualità del video perché fatto col telefonino però sto cercando di aiutarvi con quello che posso scrivete nei commenti spero di essere stato d'aiuto vi ringrazio a più tardi